Sono un po' emozionato, devo dire? Sono un po' emozionato, perché questo è un gioco nuovo Emuliamo un po' la premiazione degli Oscar Io ho un premio, che è il Golden Step, guardate che bello Il Golden Step, io chiamerò il vincitore di volta in volta Però vi darò la motivazione per cui verrete premiati Voi dovrete ringraziare Secondo l'input che vi do The Golden Step goes to I just can talk about Friday, fine What? I just can talk about Herbert! Roberto! Roberto! Bravo, Ernesto! Bravo! Bravo, Ernesto! Bravo, Ernesto! E' un'emozionato! E' c***o! Un'emozionato! Vabbè, tieni questo! Dai, tieni questo! Vengole la finzione, vengo! Vengole la finzione! Tieni questo, dai, tieni questo! Allora... È rotto! Herbert vince il premio speciale Smemorello d'oro Allora, innanzitutto, se sono qui Devo ringraziare tante persone La prima è il mio produttore No, perché io ho due problemi, devi capire Il primo è l'amnesia Secondo? Il secondo che? Vuoi ringraziare... Ma io perché sto qua? Dov'è l'Oscar? Allora, il film è stato un grandissimo film L'avete visto tutti, il titolo è... E' bello Lo squalo no No, che squalo? Lo squalo Lo squallido, semmai Lo squallido Però, però, se c'è una persona che voglio ringraziare Almeno una E' colei che mi ha cresciuto e che ha creduto sempre in me Sua madre No, sua madre Mia madre? Eh? Dove sta? No, dico... Ci sta, mia madre Voleva ringraziare sua madre E perchè? Non lo so Ma che c'entra con mia madre? Albert Ballerina! Il prossimo Golden Step va a... Marta! Marta! Buongiorno! Giusto! No, dai, è giusto Era più giusto? Prego, prego Bradley Cooper Prego, prego, prego Signori, Marta Filippi oggi riceve il Turpiloquio d'Oro Oh, mio Dio Grazie Prego, prego, prego Grazie, grazie Stefano, grazie a tutti, grazie al pubblico e grazie al cazzo Sì No, perché è anche giusto che dopo una vita di sacrificio E di fatiche, insomma, questo premio alla fine finalmente si è arrivato Perché comunque ho faticato parecchio Ho lavorato duramente, mi sono fatta un c***o Eccchio Ancora mi ricordo il mio primo ruolo Il casting mi disse Signorina, lei è veramente una gran testa di c***o No, no, no È proprio perfetta È perfetta E io gli ho risposto pure Ma sua madre, quella gran m***a No, no, no Mi è il premio Mi è il premio Il Golden Step va a A A Viaggio Per Barba Grazie 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 orage Grazie Grazie Paolo Antoni Me lo merito tutti Piaggio Izzo riceve il premio come miglior trattenitore di pipì Prego Volevo un attimo di silenzio Perché volevo ringraziare il... No, 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 ringrazio, ringrazio Ringrazio chi mi ha dato il cupodillo Stasera, Lucio, eh? Forza!